Un veleno invisibile ma pericolosissimo. Mentre il comune di Bitonto tenta di intercettare finanziamenti per la rimozione dell'amianto abbandonato in campagna, i tetti della città pullulano di Eternit. Una situazione che peggiora di molto se si prende in considerazione in particolare il centro storico, disseminato di questo pericolosissimo materiale. Basta salire di qualche metro e guardarsi in giro per rendersi conto di quanto sia diffuso l'utilizzo di Eternit per tetti e altre strutture edili. A farla da padrone le tettoie che ricoprono diversi metri quadrati di superficie ma tantissime sono anche le canne fumarie e non mancano vasche per l'approvvigionamento idrico e serbatoi. Tutte strutture generalmente molto vecchie. L'amianto è stato dichiarato fuori legge dal 1992 e quindi in condizioni precarie. Una situazione potenzialmente molto pericolosa visto che le fibre si sprigionano molto più facilmente da profilati lesionati da dove spinte dal vento possono entrare nei polmoni di chi abita nelle vicinanze con conseguenze spesso fatali. Il comune dal suo canto percorre la strada dei finanziamenti comunitari per tentare di porre un argine al fenomeno. Ma i fondi intercettati e in procinto di essere ottenuti, circa 160 mila euro destinati alla bonifica di alcuni siti rurali, riguardano almeno per il momento le sole zone agricole e periferiche della città. E per il centro cittadino? Qui la situazione si complica anche perché lo strumento normativo a disposizione delle amministrazioni comunali si presta a numerose interpretazioni. Tecnicamente chi abbia intenzione di liberarsi di profilati d'amianto deve, a sue spese, eseguire un articolato e costoso iter, passando anche per i sanitari della ASL che devono valutare volta per volta la fattibilità del progetto. Ma non sempre è obbligato ad eseguire queste operazioni. Per il momento ad essere bonificate saranno solo cinque aree, sia pubbliche che private, in direzione Terlizzi-Mariotto, per un totale di circa 3.000 tonnellate di rifiuti. Per i tetti delle case l'unica strada percorribile resta a questo punto quella della sensibilizzazione attraverso i mezzi di comunicazione.